Musica Grazie mille, la prossima Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille No, sinceramente no, pensavo ci fosse meno gente, però sono più contenta che sia così l'ambiente, che sia pieno di persone e che abbiamo avuto un tacco di richieste. Grazie mille Perché hai deciso di aderire a questa iniziativa? Penso che sia una grandissima opportunità per i nostri compaesani e turisti che attraverso la nostra competenza e esperienza renderle bellissime. E' bellissimo collaborare con tutti i nostri colleghi, io faccio il gruppo con Alessandra Colasanto, Elisa, Grazie, e poi c'è lui Giuseppe Peter, c'è lui Giuseppe Peter che collabora con noi. Vieni Giuseppe? E ringraziamo tutti per questa bellissima opportunità. Vi aspettavate questa affluenza? Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti